oggi sono andato a pranzo con i miei colleghi ti ho detto sì ho speso tipo facciamo 15 euro e ho pensato a me questi 15 euro mi hanno veramente impattato però non posso più andare avanti così un pranzo a 15 euro qual è il problema? che questo podcast non mi porta nemmeno un euro e ho deciso che sta roba deve cambiare bro ho deciso che sta roba deve cambiare ma perché posso dire che siamo dei grandi che non abbiamo mai attivato la monetizzazione siamo dei grandi credo che non ce la meritiamo così a occhio no infatti boh quindi Anas sta dicendo che abbiamo aperto un Patreon e tutti i soldi saranno nelle tasche di Anas perché ha bisogno di questo pane voglio andare a mangiare senza sentirmi in colpa no comunque a parte gli scherzi abbiamo aperto un Patreon perché abbiamo bisogno di un posto in cui fare sto podcast perché non abbiamo più uno studio e siamo qui solo grazie alla benevolenza di Simo ma sta finendo io penso che la gente ormai è troppo abituata a vedere una location diversa ogni episodio quindi non puoi però che Walter ci ha balzato lì sopra ci ha balzato tra poco ci balzava anche Simo perché questa è camera mia questa è camera sua eh sì quindi so che sembra un mezzo ricatto morale se volete vedere ci dovete pagare però mi sa che non abbiamo posti in cui farlo aumentare possibilmente la qualità video e finalmente comprare tre videocamere uguali forse forse riusciremo e soprattutto dire il cazzo che vogliamo senza aver paura infatti i vantaggi dei nostri video su Patreon saranno contenuti esclusivi un po' più espliciti facciamo almeno almeno tre video al mese in più di qualsiasi tipo da almeno un episodio in più quella è la cosa più difficile da fare speriamo di arrivare a quattro addirittura un giorno comunque almeno tre video al mese cercheremo di fare almeno un podcast in più più due altri video di qualsiasi tipo risponderemo tipo alle domande che ci fanno sul Patreon magari prenderemo argomenti da lì ci sarà un Discord facciamo tier list facciamo i Q&A i video uncut le cazzate assurde più podcast aggiuntivi appunto in cui possiamo un po' esagerare anche perché il canale YouTube di Epico è sempre non si sa non sappiamo mai magari un giorno Patreon sarà l'unico post in cui metteremo i video chi lo sa spoiler della prossima idea e riconosciamo i cibi col cazzo va bene è vero l'abbiamo spoilerata però potenzialmente quindi è l'hype bro potrebbe essere il Patreon più swag d'Italia effettivamente di solito io ho visto i Patreon italiani sono tipo ah beccati il video che deve uscire un giorno prima sì che è una stronzata che cazzo ne frega noi siamo qua vi stiamo blessando con almeno tre video al mese bro forse da decidere tutto quello che avete nelle tasche perché al modico costo di quanto? Anas deve andare a pranzo deve andare a pranzo senza pensare a 10 euro va bene 5 euro al mese 5 euro 5 euro al mese e per 2 euro che è il supporto quello un po' base che si fa così noi diamo questa grande opportunità per 2 euro potete mandarci le hard pictures da mettere sullo sfumato ah sì entrare nel Discord in cui potreste beccare almeno me beccarmi e chillare dentro chi lo sa e nel Telegram eccetera insomma ma Telegram è gratis però non siamo così vabbè Telegram è gratis però Discord raga 2 euro 5 euro video in più video epici video assurdi per supportare questa baracca potrebbe ritornare il forum dei brutti chi lo sa esatto 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 potrebbero ritornare tante cose che non possiamo più fare anche ospiti che non possiamo più avere tipo chi? ah sì sì giusto tipo chi? certo certo tu sai chi tu sai chi tu sai chi sì niente supportateci saremo grati cioè il mio obiettivo rega è che il Patreon sia ancora più figo del canale principale cioè tutti i video epici sono lì letteralmente appena facciamo 2 lire prendiamo uno studio assurdo no vabbè appena facciamo 4 lire prendiamo un editor prendiamo qualcuno che lavora per noi qualcuno se mi pagate lo faccio io anzi facciamo se no possiamo fare un tier 3 di Patreon a 20 euro ci editate voi i video cioè chi paga ci puoi dare i video questo non succede sarebbe assurdo tu sai come fare business però questa è l'etnia di Lorenzo che non specificherò comunque se vi abbrate al Patreon spendete 2 e ne guadagnate 5 fidatevi guadagnate 5 e spendete 5 e il guadagno c'è proprio una roba che è di Simone che scopa il cibo e ci dice quanto è scopabile io non lo so 5 euro al mese e Lorenzo mi insegna a investire in cripto minchia a fare gli investimenti sbagliati comunque link in descrizione link in descrizione se avessimo sbatti faremmo anche tipo una cosa qui non succede ma non succederà mai al posto di rancore parliamo di Trez voglio sapere le vostre opinioni perché è arrivato così questo video uscirà a gennaio quindi potrebbe essere morto speriamo di morto per ore che io lo sto amando a differenza di come si chiamava quella dove parlavi nelle stanze e Clubhouse Clubhouse ipipe poi è morto Clubhouse era letteralmente un po' troppo complicato da utilizzare questo alla fine è una roba che c'è sempre stata perché su Facebook ancora la gente pubblica roba Nello bro pubblica tutti i giorni stati su Facebook e secondo me è una roba che mancava Twitter non lo utilizza nessuno e soprattutto chi lo utilizza non mema in Italia in Italia zero meme e l'unica cosa che mi preoccupa tanto dei Trez e spero che si calmi prima o poi è che però c'è sta black humor a manetta la gente è pesantissima sembra che gli abbiano messo in mano regà qua potete dire quello che vi pare ho visto meme su Giulia Cecchettin cose tremende brutte e quando la gente fa post o commenta questa roba è orribile non dovete farla sotto i tipi commentano non capisci l'umorismo levati dal cazzo e ruttano nelle note vulgari infatti vi fa morire che ogni tanto trovi stati super seri risposta audio sentite tipo un ruttone e poi si divide in tipe che fanno vedere il culo e dicono cosa faresti al mio culo stamattina o tipi che invece insultano come funziona quest'app e siano là con le tette di fuori questa è la divisione però bro innanzitutto vorrei capire perché Twitter in Italia non ha mai funzionato perché tipo in America è super usato ed è fa mica ridere tutti i meme fighi escono da lì la gente si informa da Twitter in Italia invece è proprio un posto da rotti in culo è tipo pesante è molto politico capito però capito nel momento in cui creano Trez che è letteralmente il mix tra Facebook e Twitter sì beh sì però io sto godendo zio mi ricordo l'era appunto in cui si postava su Facebook Nello a quanto pare è un real one che non ho mai smesso esatto però è forse la prima volta che vediamo l'inizio di un social così esplosivo credo io non l'avevo mai visto sì ma perché è comodo cioè tu a Instagram ti appaire il cosino su Instagram apri thread clicchi poi non devi non devi convertire i tuoi follower su Instagram quello è assurdo se hai Twitter devi farmare Twitter io ho fatto l'account tutti o meglio quasi fai il 30% si sono spostati i miei iscritti si sono spostati lì e la gente quindi è un social già pronto è comodissimo su Twitter se ci pensi uno si apre l'account fai un post tra mi piace e dici dopo un po' dici vabbè ma che cazzo lo faccio fare non mi si incula nessuno e la cosa più figa è che non devo per forza fare dei post sì cioè gli posso commentare la roba della gente e gli appare in home quindi il meme o meglio il contenuto sta anche solo nei commenti ho visto una tipa che ha scritto non so tipo è morto il mio criccio del genere il tuo commento era godo 10.000 like sì i commenti vanno tantissimo o a mi sta come i pazzi facendo solo commenti però ecco se venite bannati su Trezzi mi sa che venite bannati sul profilo Instagram quello un po' mi mi prende male quindi la gente sta wildando ma forse bisogna un attimo chillarsi secondo me e io ho un po' paura infatti cioè ogni tanto ho capito dico scrivo e prima di prendere invio faccio lo faccio lo scrivo davvero e cancello tutto pussi ass beh pussi ass no no fai bene ho paura ho buildato questa grandissima community in anni di lavoro però posti era una roba qual è il post il primo post su Trez di rancore una citazione o qualche libro ho visto mezzo sangue su Trezzi che mema tipo però mema in maniera cringe ovviamente nel senso il filo d'Arianna ti conduce alla consapevolezza ma no ora non mi ricordo quindi vedi il meme del bambino che fa così quando te la dà al primo appuntamento una minchiata del genere no però si vedeva proprio che tentava di fare il based però era bro quanto godo che viviamo nell'era dei meme cioè non è che voglio che ci succhiamo il cazzo e noi li capiamo cioè pensa mi è capitato di vedere su Trezzi lo vedi un botto gente che tryarda tantissimo sì sì però non sa cioè non è che io pensavo io pensavo a sta cosa l'altro giorno e pensavo tipo io alla fine noi alla fine siamo nati in una generazione blessata che capisce che ha imparato a stare al passo con internet secondo me c'è un momento in cui tipo non capiremo più i meme o di brutto palese io già mi immagino quando ci sarà tua nipote che arriverà e ti trasmetterà col pensiero un quattro codici e fa no vabbè nonno guarda sta merda e tu sei la che fai e pensi a Pepe dici minchia quelli erano i veri meme e pensi a troll face e pensi a troll face ma basta pensare vi ricordate il meme e quello con Lord Farqua di Shrek e cioè noi lo capivamo ma perché non c'era niente da capire quindi quella era la roba tipo haha lol e appunto arriva tuo nipote e ti fa oh no 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 e se ne va tu fai cosa vuol dire e lui haha e ride come un pazzo io non la capisco abbiamo un esempio pratico Vito lavorava in un escape room e ci andavano un sacco di bambini e non mi ricordo se potevano scrivere messaggi eccetera e lasciavano messaggi tipo haha Amogus e la sua collega che è un po' più grande fa cosa vuol dire ma non è che loro lo capiscono cioè loro non lo capiscono si dice si dice però è il fatto che lo trovi divertente è una roba ancestrale bro tanti meme non li capisci ma semplicemente va si è vero lord farquare con scritto E a che età si capisce il meme? da piccolo nozzi ottimo bella domanda zero perché i bambini adesso sono degli idioti che non sanno non sanno memare cioè stanno non le dicono ah ah il mio streamer di fortnite ha detto Amogus lo scrivo qua e rido però allora non li capisci ok tu dicevo capirli con cognizione di causa che che lo usi in modo giusto eccetera che capisci che masteri quell'umorismo secondo me alle medie puoi iniziare è molto graduale a un certo punto i meme vanno avanti e c'è un filtro c'è una selezione facciamo che alle elementari siete in 10 vedete per la stessa cosa alle medie siete in 6 che sono aggiornati alle superiori in 3 a 25 anni al lavoro sei da solo al lavoro sei da solo al lavoro sei solo con un cane e loro rimangono indietro secondo me è una questione che ti serve tutta quella knowledge accumulata quando sei piccolo che appunto ridi ai meme ma non li capisci semplicemente copy quello che fanno gli streamer tipo e poi piano piano ne capisci uno finalmente e dici ah ok come fatti ti stai i piedi con lui e piano 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 tutto il tuo backlog di meme che hai spammato per anni senza capire di colpo dici I get it now adesso posso memare questo è identico a quando parli della popolarizzazione del fettice dei piedi che memi 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 a un certo punto è reale sì 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 no il mio figlio lo manderò a scuola di meme secondo voi esisterà l'università dei meme ma che è non mi importa i presi del troll face però sappiamo tutti che l'università dei meme sarebbe cringe i veri meme crescerebbero in strada cioè capito vedi che va all'università privata beh che il tipo di strada gli fai sì sì io sto studiando sti meme tu che sei per strada tutto il giorno e ridi e lui non capisce fa no questo non è loss minchia ti incazzano il bullismo su chi non capisce i meme beh la roba di loss era era questa cosa qui cioè ogni volta tutti infilavano il loss in sti meme ah non l'ha capito e tutti cioè il meme era tipo che gli altri non lo capivano posso fare un piccolo momento redpill tipo redpilla redpilla quanto vuoi ah prima volevo dire effettivamente è assurdo che è pieno di thread è pieno di third thread perché è un momento per lui no non è una fase mamma questo è stato creato solo per tirar fuori quel lato e non averlo al di fuori da qui no ok ok ma cazzo su threads mi fa spezzare tutti questi ragazzi che evidentemente postano la foto della mamma sul cazzo e tipo così e davvero scrivono subito cioè perché non è il momento redpillato però mi è venuto in mente adesso non ho capito non ho capito la domanda sull'home di threads quanti ragazzi e ragazze vedete mezzi in audio che scrivono appunto cosa faresti io necessariamente pochi ma perché più ragazzi 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 più che altro la gente si indigna più sulle tipe quindi vedo i commenti eh però qua ecco questo è il momento redpill io effettivamente ho visto bro in un'ora da quello scaricato cinque influencer tipe cinque commenti super ultra mega sessuali tipo vabbè ah no minchia quanto è brutto quando la sborra in gola e tu poi devi tossire e mi sembrava troppo un tryhard perché ovvio che poi i maschietti si triggerano loro dicono eh ma io cioè oh ma cos'è ti triggera che ci stai tryhardando stai tryhardando smettila no non è che io odio i tipi che parlano di sesso mi dà fastidio quando si vede che è un'esagerazione tipo minchia ieri l'ho preso nel culo non puoi vincere bro ma chill sai perché 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 se tu dici così la tipa ti dice vabbè come tu dici ieri ho scopato una e lei dice ieri ho preso nel culo da una capito è un po' la stessa roba quindi lei dice io non sto tryhardando e tu non puoi dimostrare che sto tryhardando però sappiamo che sta tryhardando tu lo sai che sta tryhardando bro ci sono tante cose che non si possono dimostrare tanto che io non so chi segui tu perché a me non esce così tanto a thirsty shit un bot su tre a me esce un bot anche a te esci mi hai detto già che sei sta roba tantissimo ma perché c'è Nello che commenta zi ah ok Nello sta esagerando cioè Nello sta esagerando bro sai chi commenta di brutto Dread commenta tutto Dread vedo minchia mi fa spezzare sta roba e poi vedo un botto di di gente che posta un sacco di meme tipo meme su Chiara Ferragni o robe del genere spammati in post a caso e quindi si stanno già creando dei trend su cioè le mode già di Dreads capito più che altro mi sta sul cazzo il fatto che cioè alla fine potevi mettere su Instagram i post con le scritte senza fare un altro cazzo dei social cioè magari diventava brutto diventava troppo complicato però cazzo finalmente puoi condividere le cose la sezione Dreads però sai cosa che Instagram ma funziona solo a video no? secondo me hanno detto bam separiamo sta roba cioè le foto e le scritte le mettiamo di qua e su Instagram tutti faranno solo le story real praticamente si hanno detto bam creiamo Facebook per i giovani Twitter Twitter vabbè evidentemente è come Facebook secondo me hanno visto che Twitter sta un po' crepando X e quindi ha detto finalmente possiamo rubare il post che Elon Musk ha distrutto Twitter godo un po' godo alla fine è una merda Twitter quindi ci sta per i porn era la svolta mi ricordo però adesso qua a Dreads è zero walk spiegami questa cosa io non ho capito sta roba di porno su Twitter perché dovrebbe essere la svolta guarda i porno su Twitter trovi la merda vera anch'io non l'ho mai capito la merda vera la vedi ovunque i real ones li guardavano su Facebook proprio ma nessuno chi è il real one che guarda i porno su Facebook ma magari su Telegram no no ma prima o su Reddit ma prima io vi parlo di 14 anni Facebook barra di ricerca donna cazzo e ti uscivano 2000 video però era vero mai vissuto da sta cosa non ho mai cercato il porno erano belli erano belli perché poi era c'era casalingo non so perché lo condivideva effettivamente il profilo della persona che faceva quella roba lì no quindi era tipo amatoriale sì bro cioè quello è il trucco sì 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 non lo so bro davvero non mi ha mai capito però c'è sti qua che mi fa un po' strano dicevano ma lo faccio e lo carico su Facebook in modo che tu possa condivisarlo era un periodo selvaggio su Telegram funziona su Telegram ci sono un bot di pagine di gruppi così chiaro chiaro che poi hanno i bot le categorie sono fatti stra bene perché gli esseri umani quando devono pensare nuove robe porno licenziati licenziati da curare i problemi della vita ecco Telegram Telegram è proprio il posto prebito sì c'è solo il male secondo te chi voleva far Telegram dice ah un giorno un giorno la gente manderà i gor e le pagine tendi terroristi se scambieranno secondo me lo pensano secondo me lo pensano perché non sono degli idioti questo poverino è il tipo ogni giorno piange per dormire perché fa che cazzo ho creato quanti attacchi terroristici sono stati organizzati su Telegram quanta gente spaccia su Telegram quello tantissimo se non conosci bene Telegram il tipo che l'ha creato sì se non conosci bene Telegram se vai da un vecchio dici ma quell'app in cui roba f***a perché per i giornali c'era un periodo in cui Telegram era f***ografia o revenge porn quella roba di è vero però sono tipo quelli che creano queste robe sono tipo socialisti o anarchici sai robe così che dicono basta la nostra privacy sai non saremo più controllati la messaggistica crepitata non so se voglio sparare sta cosa non so se possiamo parlarne avete mai visto un video di t***ografia no mai non ti è mai capitato no mi è capitato dei momenti in cui ho capito che poteva essere quella roba lì Anas sì che ho visto dei video e poi dopo dicendo però su Pornhub no io allora non posso farvi queste domande ve lo chiedevi cosa avete provato quando l'avete visto una volta un tipo stavo in discoteca si è avvicinato ma senza di me niente mi ha messo davanti il telefono un video di t***a fotografia ma Milano sì greve proprio un video greve sì ma mai ho visto gente che sgozza la gente gorre pesanti non mi ha mai preso male come quel giorno là cioè ci ho pensato per tre giorni di fila scioccato ma scusa mi sto qua è arrivato e semplicemente ha tirato fuori io ci ho litigato ho detto ma sei stupido ero indeciso tra alzagli le mani o denunciarlo una roba bro mi ha fatto sta male se ci ripensi adesso sto male tutto il gorre non ti ha mai impressionato veramente cioè ti impressiona ma quella roba lì io sono suscettibile anche il gorre però tipo mi guardo il video che sgozza la tipa è successo ti pigli mai dopo 20 minuti mi spiegando male però mi passa quello si mi è rimasto addosso proprio perché poi mi è messo in enfatizzare ti conosceva era fan a random tipo due o tre anni fa è venuto e ha fatto guarda mi ha messo davanti al telefono sta scena non voglio nemmeno descrivere no non farlo non farlo cioè sto qua però ha pensato no vabbè minchia sì farebbe troppo ridere lui ti capi sul pezzo e sono contento che mi è successo solo una volta nella vita nel senso che è un argomento che non vivo e nessuno che ho intorno vive grazie infatti se pure voi non l'avete mai visti no no bless però ho preso mar ma strano ti ha fatto riflettere su magari quando stavi tornando a casa dicevi minchia forse ho attirato la gente sbagliata sembrava un idiota quindi spero vabbè è un pazzo semplicemente cosa pensavo nella sua testa qual'era la migliore delle ipotesi cosa doveva succedere era tipo grande bro spezzo grande minchia sei un pazzo cazzo tipo sì no bro grazie a dio non ho mai visto quella roba io ho sempre voluto andare a vedere un po' il deep web mi guardo un sacco di video però appunto vedendo un sacco di video tutti dicono guarda se tu effettivamente vai sul deep web dark web è molto probabile che potresti incappare in certi siti succede quasi a tutti quindi devi essere consapevole di sta roba infatti quella roba mi è sempre fermata e ho detto vabbè ma come fai a incappare in certi siti non è tipo google indicizzato cioè devi mettere l'url del sito mega preciso dove vuoi andare eh non lo so bro però magari tu vai in un sito che commercia certe cose ma non lo sai e trovi anche quello sai voi non siete mai andati nel deep io sì ho visto siti dove vendono tipo droga parlate parlate dove vendono droga armi servizi tipo di hacker e può succedere secondo me che trovi nella categoria lo sbatti quello è bursata sai cosa a me molti siti sembrano un po' tipo tipo io ero finito in sto sito ero finito in sto sito che praticamente erano ste webcam di persone rapite cioè era sto sito però anche la cioè la grafica del sito sembrava un videogioco horror tipo capito con le scritte in rosso tipo sangue non so e c'erano le ste tipo tre webcam con ste persone tipo in una in una gabbia che urlavano erano tipo incatenate ah ok webcam in quel senso cioè tipo testimonianze tipo quelli che mandano la famiglia no era più penso un sito di voyeur tipo che ti fan vedere le persone rapite cioè non lo so bene quale fosse lo scopo forse si rapisco questo pubblico il video e tu paghi per vedere il video però era gratis quindi non lo so quale fosse il senso però beh a prescindere da quello il sito come era fatto tutto mi sembrava un po' una feccata capito cioè una traiardata pesa perché voglio dire se tu hai un sito dove fai vedere dove la gente ti paga per guardare le persone che vengono torturate tipo si red room cioè ci fai l'estetica da film horror nel senso sarà un sito mezzo cioè non dico che deve essere come facebook tutto bianco e blu beh si ci sta tipo uno show la fotografia più che altro attira proprio la gente a cui piace quella non so ma secondo me c'è un bot di roba sul dark web che sanno che la gente poi ci crede di brutto e quindi cioè ti farai dei soldi no? ci saranno delle ad anche su quei siti in qualche modo la tappa di l'orecchiera ancora ancora non sentire mi spiace ma lui è il primo lui è l'inventore figa del dark web però capito cioè secondo me c'è tanta gente c'è un bot di siti fake come un bot di gente in america leggevo cose che tipo moglie va sul dark web ingaggia killer per uccidere il marito e in realtà sono tutti agenti dell'fbi tipo e arrestano lei capito c'è tanta roba fake però ovviamente c'è anche la roba vera i siti tipo com'è che si chiama quello che poi a Silk Road quello dove vendevano un bot di droga un bot di armi quello hanno arrestato hanno arrestato quelle fangue quello era un chiuso quella è una storia assurda effettivamente quello è figo ma in realtà il di poi aveva una figata cioè letteralmente ha creato l'amazon delle droghe e delle armi cioè concettualmente era era una figata era veramente una figata si era un po' illegale il tipo si è arricchito all'inverosimile però non mi ricordo adesso perché è stato arrestato ma è sempre per lo stesso motivo perché ci sono stati altri dopo Silk Road che ci hanno provato ed il motivo è sempre quello che hanno sempre lasciato fatto un errorino a caso tipo hanno usato un'email vecchia che è associata a qualcosa quindi alla fine li sgamano sempre la gente tipo che vendeva roba sul deep web si faceva pagare in bitcoin quindi magari la gente adesso c'è c'è wallet da 200 bitcoin e sono stralicchi io ho un paio di amici che nel 2012 13 o insomma roba così compravano tipo l'erba con i bitcoin online si un mio amico uguale non si è tenuto niente quindi sta ma magari che compravano 10 grammi d'erba non so 5 penso al tipo che ha venduto un po' di zazza e ti è diventato multimilionare per sta roba però bro si è vero il deep web è vero ma c'è un sacco di merda c'è sta storia che non voglio nemmeno dirvela in realtà perché è orribile si chiama vabbè la censuro censuriamola dopo si chiama è una creepy pasta censureremo il nome è pedofilio orribile conclusione della storia il tipo che ha creato quel sito è stato arrestato in germania e lo suot è entrato in casa sua mentre mangiava con la sua famiglia ma sto qua aveva un sito dove appunto ma faceva o ripubblicava non mi ricordo sinceramente però sono più lo penso sulla prima zio ma neonati neonati bro pensa alla moglie di questo che non si trova lo suot in casa e scopre sta roba qui di tuo marito entro nella mente comune godo se arrestano i pedofili vabbè chiaro nel senso posso non godere se arresti uno spacciatore posso non godere se arresti un assassino a volte magari c'è una causa che mi fa ragionare se la pedofiliazia è proprio la roba imperdonabile e poi hanno rovinato secondo me delle attività migliori che abbiamo noi come esseri come ragazzi il sesso no no cosa che almeno io personalmente quando spesso mi piace magari quando cammino al parco così guardare i bambini ma in un modo in un modo emotivo che dico cazzo anch'io ero così come loro però poi mi rendo conto che sono lì col cappuccio che guardo i bambini da 20 minuti mi prendo male perché loro hanno creato non sembrare un pedofilo è uno struggle perché sì è ovvio che i bambini sì sono belli da vedere certo cioè spaccano i bambini ti danno proprio quella gioia però se lo fai dici non devo farlo non devo farlo perché qualche altro figlio di puttana malato lo vede perché poi arriva il Dalai Lama che lecca ciuccia la lingua si fa ciucciare la lingua assurdo o anche una volta l'altro giorno ho visto no mesi fa ho visto non mi ricordo chi tipo no bro che c'ha sto ragazzino autistico o down vabbè censuriamo down non so perché vuoi censurare down in braccio che figlio di un altro che gli si dava i baci in bocca è sempre weird non è così strano no è strano io capisco il ragionamento perché dici è una cosa carina se la vedi da quel punto però se ci metti dentro il pensiero della p***a diventa una roba creepy l'ho mandata a mia madre sta cosa per vedere cosa ne pensava una persona a mia madre l'ho mandata e ha detto ma guarda il suo video e mia madre fa ma che cazzo fa ho detto vedi allora non so non sono io no no è strano è strano è già strano quando lo fa un genitore al figlio è comunque un po' si è un po' strano però nei commenti nessuno si individua a un ragazzo down nei commenti la gente era sei un grande anche perché lui fa roba coi down magari gli piacciono lui c'è dei format diventi buco i down magari io io sono ovviamente la taglio ovviamente viene tagliata diciamo che comunque se dovessi cercare qualcuno che ha quel tipo di di roba sicuramente ecco se fosse tanto incluso in queste situ e sta roba la dobbiamo tagliare mi sa però sarà poi no no lo farebbe come un ragazzo con una roba genuina come un padre che bacia in bocca al figlio tipo a Napoli suonava malissimo questa roba vabbè tagliamo un po' ma paglia un po' vedi però sul Patreon è tutto un cut bro adesso si stanno subendo e tipo su tiktok mescono un botto di video di napoletani che ne so padre esce dal carcere e torna a casa e si tutta la famiglia tipo dal figlio alla figlia al nipote alla madre alla ragazza vanno da lui lo abbracciano e si danno proprio stili moni si baciano in bocca di brutto e se lo guardo e dico strano però penso anche quanto si vogliono bene comunque mio padre quando ero piccolo i baci in bocca me li dava a me no ma io e mio padre non ci tocchiamo ma si bro per quel poco che ho visto mio padre oh no bro non devo fare ma non posso vincere questa guerra con te come Fedez che bacia il figlio è una roba che mi fa mentre mi mettono l'allegria però se il figlio è di un altro non mi prende male scusate so che sembrerà un altro shameless plug però che bello che in questa puntata in cui annunciamo il patreon succedono così tante cose da tagliare mentalità fortunati mentalità di una certa etnia fortunati chi ha pagato questo non è cazzo lo possiamo vai tra quello l'abbiamo sempre detto vabbè ora torniamo all'episodio reale però questa roba qui se tu lo vedi in un video di gente che vive in un altro lato del mondo dici ci può stare la loro cultura però è il fatto che questi qua stanno in Italia stanno al sud Italia vabbè zio lo so che non è Italia ma no lo so che sembra una roba tipo da leghista eccetera ma è realmente due culture diverse il sud del nord Italia sì 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 comunque baciare i figli è sulla linea del accettabile strano perché stiamo parlando di ah sì sì è vero bro anche in metro così ogni tanto vedo un neonato e sono belli figa ogni volta stai lì che devi tirare un'occhiata puoi smettere allora aspetta io non bacerei mai in bocca a mio figlio ora che ci sto a pensare ma non hai un figlio non puoi sapere magari proprio così tanto amore però non è che tipo mi dà fastidio mi dà fastidio a me no aspetta so che sembra una la tua ragazza ovviamente le dai il bacino sulla bocca sicuro di voler cucinare bro sì 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 non dico quando limoni che il bacino a stampo sembra comunque strano che stai lì passi bacino a stampo non voglio insegnare a te lo scopi bro ma è una roba totalmente non sessuale quella cosa eh però un giorno lo diventerà sì è questo il fatto non voglio insegnare a mio figlio a limonare a cinque anni capito ma mica limoni bro ma il fatto il fatto è non voglio che mio figlio dai fammi parlare non voglio che mio figlio al suo primo bacio si ricorda il bacio che dava a suo padre capito cioè non voglio che mio figlio quando bacia la sua ragazza e dice adesso sto per scoparla pensa la sto baciando proprio come baciamo i miei papi si immagina te e te la peggiora ancora si immagina sta roba e gli viene il pipi duro vabbè mo dovete renderla weird per forza sei esagerando dovete renderla weird a tutti i cori no però è perché è weird baciare tuo figlio io sono dalla parte di Simo anch'io nel senso c'è tutto un corpo da baciare perché devi baciarlo sulle labbra bacialo sulla guancia c'è tutto il corpo anche qui mezzo tutto il corpo sulla chiappa tuo figlio ha una certa i bambini fanno cose pazze tuo figlio ha una certa arriverà per darti un bacio in bocca di sua spontanea volontà e tu fai oh bro e tu fai oh chill chill ma ho visto un po' di tiktok in cui c'è scusami ti ho interrotto no vai 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 sentiamo sentiamo ho visto un po' di tiktok in inglese in cui c'è il tipo che fa il mio figlio dovrà chiamarmi king perché ormai daddy non l'ho sessualizzato troppo capito perché in americano oh daddy daddy e qui dicono no no chiamami bro qualcosa del genere no è così in italiano però non ce l'abbiamo sta roba perché non ci sono ragazze che ti chiamano papi cioè io almeno se una tipa mi chiama papi ma se un giorno succede non mi va che il proprio figlio gli fa la tipa non chiamarmi così perché ci chiamava ci chiamavo mio padre cioè nel senso papi no daddy daddy eh voi che ringereste? ma in realtà con le tipe? sì o col figlio? no ma quelle tipe se una tipa vi chiamasse papi o daddy no più o male la interrompo la interrompi ti prendi male? no ma non mi puoi chiamare in nessun modo di strano tipo baby ciao baby no nemmeno baby ma come ti chiamo Giulia? Simo amo? amo ci sta amo ci sta Simo amo amore il mio re pelato anche se amore per me vabbè ma io so dai anch'io sono tipo crappa pelata? ehi Luca Luca Podcast e no vabbè ma io so particolare perché proprio a me piace chiamare persone per nome anche tipo chi ha i nickname prende male tipo Omi lo chiamo Omi perché sono abituato e Andrea non mi piace però Omi è uno dei pochi che anche io chiamo Omi però cioè non ti chiamerò mai con il tuo nickname o cose così io ti chiamavo Piede rido rido perché perché sai che ci sono quelli che dicono bro ma minchia Mario in sta canzone dici bro è tedua cioè non è Mario per te quindi anche io magari Omi ogni tanto magari voglio dire Andre però poi dico ma non è che ma se lo dici a qualcuno tipo sta canzone di tedua spacca è perché se dici sta canzone di Mario e tu dici chi cazzo è Mario se fosse tuo amico no se è mio amico se fosse un tuo grande amico lo chiamo Mario però un po' dentro te dici capito minchia lo chiamo Mario è giusto è giusto che cazzo è dipende con quanto sei amico cioè noi magari ci conosciamo da dieci anni non è che mi fa strano chiamarlo è uno dei tuoi best friends è uno dei vostri migliori amici uno sconosciuto vi parla fa sì sì a me tedua piace sta canzone e tu diresti ma se sai Mario dici no evito dico tedua io non direi il nome se non siamo se non siamo in confidenza che? non lo diresti? se uno venisse da me perché? non parliamo di tedua parliamo di Omi per esempio se uno mi dicesse ah sai io le stream di Omi lo seguo e non ti conosce io direi Andre spacca però lui non ti conosce io non dico così per lui tu non sa chi sei perché lui non sa che sei amico di Andre capito? vabbè magari nel tuo caso lo sa sa che sto parlando di lui di Andre cioè nel senso vabbè nel tuo caso nel mio caso magari che non sono famoso e non mi conosco non sa che sono suo amico mi fanno aspettare i suoi stream io e lo faccio davvero sta roba non so mi viene automatico non dico ne Andre ne Omi dico eh sì sì lui tipo vabbè tu sei proprio dico le sue live minchia Voldemort no dico non dico il nome perché mi viene un po' cosa dico non so come chiamarlo il biffo Andre che non vuole nominarlo no zio perché spesso mi capita tipo che mi viene a dire mi viene a fare tipo no perché Andre Omi e mi dà fastidio cioè perché mi viene a specificare sai qual è il livello peggiore ma anche nel tuo caso magari cioè tipo Simo qual è il suo no però è tipo no perché uno dice Panetti e io magari dico Simo Panetti non mi hai mai chiamato Panetti in vita tua no a te ovviamente ma perché Panetti con la Y te l'ho voluto chiedere mille volte mi dimentico ogni volta perché era il 2008 no perché mi hanno rubato Panetti già ah sì merda bro e la gente che invece mi chiama con l'username tipo quella per me è peggio tipo succede molto con le ragazze qual è il tuo username scusami no a me no però intendo quando magari parli di una tipa fai ah sì ma non so mi hai ignorato quattro qual è la domanda niente non lo dico più qual è la domanda no 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 vai avanti l'ho ignorato ma non prenderti male bro dai ripeti la ti ascolto eh ma oramai ovviamente il tempo è no ormai dillo 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 no ha ragione il tempo è morto l'abbiamo messo troppa responsabilità quando si sentirà comodo non è un problema no ormai lo dici rifacciamo la ditti questa roba no ma non voglio rifarlo rancore ti sta giudicando un po' di recitazione dillo non voglio non è genuino io non voglio mentire alla gente che ci guarda è come la gioconda dove ti sposti ti guarda si rifai perché panetti con la y si ma perché panetti con la y no bro non faremo questo teatrino io lo faccio io lo faccio io mi rifiuto è perché hanno già preso panetti con la y ah e tu perché Anas sono fake rega cioè proprio la guardavo non mi ha risposto comunque cioè no no rifatelo ma credeteci cioè vi sto solo dicendo se dovete rifarlo ma io non vedo il lato comico eh non vedo la comicità non ti fa ridere la battuta no eh vabbè ma qual'era la battuta eh non c'era la battuta era un alleyup le vorecchie filtrano il mid bro era un alleyup tu dovevi schiacciarla bro eh ma mi sa che l'alleyup era un po' troppo in alto e non andava bene ma mi sa che tu salti troppo in basso shish vabbè andiamo avanti dai va bene ha mai scopato ah 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 sì perché eri amico di Andre epico podcast ma ti pare ma che cazzo è lo so ma va zio domanda ci ho pensato un secondo no mai no assolutamente no bro è raro che una ragazza arrivi vabbè tu sei amico di Oni cioè che non è mai successo dei ragazzi quello sarebbe figo raggiungere uno status per cui ti basta essere l'amico di per ficcare mi è successo con i ragazzi c'è una cosa che succede è che magari esci con quel tipo famoso e c'è il blessing ma i ragazzini bro cioè a me è capitato i ragazzini tipo al games week ah ma tu sei sei Lorenzo grande e tipo quello di fianco fa chi è? è il conquino di Oni dicevo sì ciao e ti hai scopato il no vabbè a me è successo poco fa che tipo ero uscito con questa qui poco fa un mesetto fa sei l'amico della e lei non è italiana è venuta qua a studiare eccetera e un tipo ha riconosciuto il podcast e abbiamo parlato un po' poi io non ne parlo mai nel senso non è che non è così scopa perché siamo un epico podcast bro ma ti giuro secondo me è l'opposto zio ti voleva scopare ha detto no vabbè c'è un podcast no bro l'ho rizzata era rizzata di brutto era rizzata adesso scrive come l'hai capito fra la sua titolo i capelli si vedevano attraverso la maglietta oh tu sei di epico prima di nominare epico erano normali poi si sono diventati lunghi ma grazie a dio non capisci l'italiano quindi comunque non è che poi poteva andare a ceccare vedere sta mostruosità di discorsi quindi ero sei però ho visto proprio un cambio di attitude perché il tipo mi fa mi mandi un messaggio a un mio amico così no e vabbè non è una roba che mi succede mai cosa hai dato il messaggio per cui l'italiano lo saluta e mi ha detto il nome di qualcuno e tu eri imbarazzato? boh va bene ma sì è chiaro perché dico ma che cazzo cioè che cazzo ma perché questo hai fatto tipo ciao senso vabbè le tipe solitamente quando scopano gente famosa lo dicono dopo che lo conosca tipo son fan merda davvero sì cioè a me è successo una volta no un paio di volte è successo che tipo ci scopo non so minimamente se mi conosce o no e poi mi fa comunque con la tua canzone kagami kagami ah ok ma che turno fai quello che turno fai secondo me io me la viverei malissimo perché dico cioè perché tu hai fatto anche finta cioè non è che me l'hai detto prima quindi lo sai che non volevi sembrare una fan eh sì 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 e hai nascosto sta roba sei costruita tutto ti sei costruita tutto quello è un po' brutto forse perché tu ad esempio faccio queste domande perché effettivamente sei seguito tipo quando eri single e uscivi con una ragazza ti prendeva mai male l'idea che lei potesse sapere chi sei cioè speravi un po' non lo sapesse o non te ne frega un cazzo ma in realtà no cioè se la tipa la vedo presa alla fine le le chiamo gruppi le gruppi sì le riconosci quelle serie cioè quelle che proprio dicono quelle che sono passate tutti e ti piglia male sì non ce l'ho mai uscito perché però perché non mi va che il tipo la tipa è condizionata da da le mie cose dalle luci dai riflettori massimo pericolo sta con una fan adesso massimo pericolo sta con una che l'ha conosciuta perché lei gli ha scritto in DM tipo la tua musica magari era super epica ah è vero anche io ho visto sta roba infatti ho pensato cazzo assurdo effettivamente si è riuscito ad avere una relazione con una tipa che gli ha scritto in DM però per dire non è per forza una roba negativa cioè non è un idiota per me lo è perché la domanda era se mi prendo male sì mi prendo male però sono anche amico di gente che era prima mia fan e ora sono miei amici io neanche gruppi che rispetto amico è diverso invece no perché comunque la mentalità della persona la cambi dopo un po' che ci sei c'è dei rapporti cioè all'inizio è fan e poi dopo che c'hai il rapporto sì sabito diventa tuo amico cioè io adesso sto in un discord con dei ragazzi che so del discord di Dario Moccia quindi sono un po' li chiamerei fan però sono diventati anche amici di Dario Moccia c'hai capito? rimangono comunque fan dei prodotti tipo Franchino il criminale ma ce l'avrà le gruppi Franchino il criminale ce l'avrà le gruppi Franchino il criminale sì certo dite bro l'uomo l'uomo che ne sa di cibo secondo me funziona sempre sì ma io l'ho scoperto poco fa e vorrei essere il tuo kebab ha un carisma senza senso quell'uomo cioè veramente drippa da ogni poro ti piace? un botto bro a me anche piace Franchino però l'unica cosa che è un king Franchino è il criminale fa troppo ridere il fatto che tutto è il criminale tutto è il criminale c'era lui così c'era scritto prostitute criminali cioè erano bene però che video se tramezzini criminali sì perché poi non ha troppo senso ma c'era la street cred per nominare tutto criminale io vorrei conoscere un po' il suo passato secondo me non ho capito alla fine è stra adulto è vecchio viene da un quartiere è stra adulto vecchio sì i vecchi sono vecchi lui non è vecchio uno sta fisicamente meglio di me quello sì però è un bumerone è un bumerone no perché alla fine nell'internet se la cava è un bumerone che ci sta dentro è un bumerone ma ci sta dentro ci sta dentro è un bumerone i bumeroni sono altri secondo me c'è il video c'è lui tipo ragazzi che vi devo dire c'è la pista ciclabile io veramente si ciclisti e inizia così con lo sfogo di 5 minuti su cazzate capito però c'è un'attitudine assurda comunque la roba di cicalone penso all'intro loro di quel gruppo la roba di cicalone che ogni video inizia e fa se no prendetevi e schiaffatevi tra le chiappe quella roba è bellissima prendetevi le lasagne di mamma e schiaffatevi state attenti a parlare del cicalone che non è finita bene l'ultima volta che l'avete fatto è finita benissimo abbiamo fatto un po' e comunque io vorrei rispondere a quella cosa abbiamo fatto sta clip sulla conversazione che abbiamo fatto sul cicalone io e Lorenzo dove dicevamo in chiave umoristica ma anche no che l'aspetto dei video di cicalone sono un po' un po' fascista però prendiamo il termine fascista per come lo intendiamo noi perché la gente dice voi non sapete cosa vuol dire fascismo la chiave fascista è l'estetica non proprio il fascismo in sé noi diciamo fascista perché vediamo questi tipi sembravano in divisa perché col giubbotto stretto i pantaloni quasi con gli anfibi che girano in strada e quando c'è un tipo molesto molto spesso di colore si mettono vicini così faccia a faccia e sembra un atteggiamento con quell'estetica è un po' squadrista e se dite che non è vero state capate state mentendo a voi stessi sì l'estetica è un po' davvero le ronde per la città la polizia ma non l'estetica non l'estetica proprio il meccanismo il meccanismo la vibe la vibe tipo che poi rega sono i city angels basta leggere magari magari il ciccalone dice no però tu vai a leggere i commenti 500 commenti sono cioè sono molto razzisti è sempre loro comunque anche se non è quella roba lì attira un sacco di gente con quelle ideologie questo significa che l'estetica è quella che il contenuto offre da quell'immagine infatti la gente sotto è strara razzista i commenti il ciccalone vi sfida ogni video c'è la gente sotto che dice queste merde sono arrivati a rovinare Roma mia cioè Roma mia giuro e anche sotto la nostra clip questi comunisti di merda queste zecche che non capiscono niente allora andate con i vostri amici neri però hanno usato sì è assurdo è assurdo che c'è sempre se è un comunista poi a me spezza che la usano proprio per qualsiasi cosa dici una roba comunista cioè capito però parlando comunque di contenuti del cicalone che ora si sta concentrando tantissimo su il nord africa che fa casino nelle stazioni perché tutti i video anche l'ultimo che ho visto su instagram è tipo stativa che gira in sta clip di stativa che gira a termini e c'è il marocchino e il gruppo marocchini che fa dovresti metterle in velo non devi vestirti così mi sembra un bel catcalling se fossero tutti così tipo rispettati regina questo per dire che non sto andando contro ai contenuti no sto scherzando sto dicendo che sta comunque facendo da una parte sono contento che sta portando alla realtà fatti che purtroppo sono reali come ne abbiamo già parlato però comunque la chiave là che non puoi mi dite una roba è una chiave noi contro loro io non lo seguo quindi non so se lo fa o no però la cosa che un po' mi sembra mi fa storcere il naso senza seguirlo a parte certe clip è che lui fa sti video magari va gli no ci sono le minoranze che fanno ste robe e le filma e butta il video e commenti sono sempre sempre loro sempre loro vorrei che contestualizzasse un po' certe dinamiche che portano quel tipo di minoranze a compiere quelle azioni io non so se lo fa però vorrei che adesso parlano seriamente dell'argomento allora figo cioè spacca sta roba però davvero è noi contro di loro cioè loro i 6-7 bianchi che vanno alla stazione tra i nordafricani e guarda il degrado hanno buttato lì le cartacce e la cosa real è che ultimamente ha fatto un video a Parigi in un quartiere brutto in una baglia si si e ha ha spaccato comunque ha dimostrato che c'è lo sbattite i nordafricani che te scavallano si perché il video è tutto di loro che parlano con questi marocchini algerini tunisini non so che quella nordafrica arabi arabi e dopo un po' che ci parlavano si hanno provato a scavallare uno e l'orologio all'altro gli hanno aperto la borsetta le guardie che si sono avvicinati a loro e hanno detto guarda vi stiamo guardando dalle telecamere sta cosa assurda li seguivano con le telecamere di tutta la città e hanno detto quel tipo ha provato a scavallare a lui ha provato a scavallare l'orologio la polizia francese attenti perché vi stanno seguendo vi stavano portando in un vicolo per scavallarvi ah sembravano amichevoli non cazzegge no no ma poi si sono tutti fisicati e nel video fa l'intervista e dicono e dicono ma perché siete tutti atleti c'è il tipo con le orecchie a carciofo frate cioè a carciofo si c'è carciofo o broffolo carciofo vabbè un ortaggio cavolfiore e loro hanno detto noi siamo obbligati a fare sport proprio una volta due per regolamento della polizia una volta a settimana dobbiamo fare sport in Italia noi abbiamo i marescialli col panzone in Italia ma in Italia siamo come gli americani che mangiano le ciambelle bro mangiano gli arancini però pensa che comunque in Italia io in America bro ho sentito che l'addestramento dura tipo due settimane e fa morire che ho scoperto che c'è questo scambio in America di gente che si filma magari si mette in post dove non dovrebbe proprio stare e la polizia arriva e si qua mentre si filmano cercano di tirare in mezzo la polizia dicendoli tipo no voglio parlare col tuo superiore voglio parlare con qualcun altro i miei diritti sono questo e quello perché quasi sempre un poliziotto li gira il cazzo e tira fuori la pistola e quelli ce l'hanno in camera appunto e filmano sta roba e poi li denunciano e si beccano un botto di soldi cioè le tente scammano sull'inefficienza dei poliziotti come volevamo fare io e Simone beitare i commenti di insulti per denunciare le persone però sta roba assurda che la volete fare veramente capisco capisco che la situazione sia diversa cioè onestamente in Italia poi non so in Francia però in Italia il lavoro del poliziotto è visto come cioè non dico una cagata però nel senso nessuno ci crede così tanto almeno nella nostra generazione forse cioè nessuno ha sto rispetto intrinseco per i carabinieri per la polizia se sei veramente di destra eh? no nulla ah se non sei di destra no no è paura della shitstorm no non ha senso cioè in realtà però tendenzialmente mi sembra che quelli molto di destra abbiano molto sai rispetto ma noi siamo abituati che letteralmente l'unica interazione che abbiamo avuto con i carabinieri era ti stai fumando una canna a 15 anni arriva il cazzo di la volante e ti scheda per una canna e dici figa questo è un cazzo da fare fa ridere che voi dovete avete avuto interazioni peggiori delle mie nonostante io abbia la skin la skin la arab skin io ho avuto solo bellissime proprio da fin della Disney magari è quella che ti ha ti ha salvato una volta stavo dando questo sacco di patate in mano da due chili perché vabbè mi serviva mia madre la punizione mi si è rotta la rete e sono caduto tutte le patate ero minchia che palle metto a raccogliere a raccoglierle senza documenti perché non ce li ho mai vedo sta volante della polizia che mi va lentamente come tutti i tuoi fratelli lo sapevo lo sapevo vabbè vedo che inizia a inseguirmi lentamente io cammino dico minchia ma mi chiedono le cose che palle mi inseguo un botto a un certo punto mi chiamano faccio ecco tira fuori dalla volante una patata infatti era caduta questa prima ha proprio pensato bro a questo serve questa patata allora è a metà wholesome è a metà un po' weird siete dei malati non ce l'ho assolutamente pensato però ci sta però ci sta ho sempre pensato fosse molto bello magari volevano vederti in faccia bene prima di fermarti e ho detto ma portiamogli questa patata così me lo vediamo e vediamo com'è vediamo quanto bene parla l'italiano ah ok dice in base a quello ti amo questa patata e tu grazie mille signore e loro no no è clean è clean e pulito no ma fa ridere se ci pensi ai carabinieri i carabinieri quanto si fanno influenzare che è una roba anche quella da vecchi dall'aspetto fisico di una persona cioè come dici tu io da quando ero più piccolo che poi in realtà ci azzeccavano perché le canne me le facevo davvero nel senso però avevo tipo i capelloni i pantaloni larghi però fa ridere però mi fermavano davvero due volte alla settimana tipo sempre però bro devi capire che cioè se mi metti davanti dieci tipi e ti vedevi di chi spaccia quello con i dread ho il 70 80% di azzeccare sì sì quello no quello con i dread bro lo vedi anche da come si muove cioè si vede chi è nella malavita sono triste queste robe perché esatto qui si dicono ah vieni da me solo perché sono questo e dici beh scusatemi i mafiosi le facce di mafiosi se tu diresti mai che non sono mafiosi beh alcuni sì bro si capisce si capisce alcuni sono proprio dei signori normali bro secondo me poi ragioni ci sono quelli che lo vedi e dici figa ovvio che era lui cioè tipo cluedo no era poi però boh non so mi fa ridere pensare che davvero se hai dread la polizia ti fermerà sempre per esempio vabbè ma cioè lo capisco lo so però fa ridere comunque capito cioè i veri criminali si sa hanno la giacca e la cravatta che stanno sopra di noi hanno il tatuaggio sotto la pelle ma poi chi controlla chi controlla chi controlla il controllore chi ci difende da chi ci difende esattamente vabbè comunque penso dire ancora secondo voi ci calono i poliziotti i poliziotti interracial perché hanno l'odio e quindi capito assurdo quella cosa lì cazzo ma sai che parlando ieri con un mio amico mi fa che mi fa che una sua roba che gli piace non lo fa però gli eccita il cacolding e mi fa che lui secondo me ha sviluppato questa roba perché quando si era lasciato con la sua ragazza ai tempi l'idea che lei scopasse con altri lo distruggeva e quindi ha detto che ha iniziato a segarsi pensando a sta roba qui ma perché ma si è rovinato la mente lo giuro ve lo giuro mi ha dato perché si ha esorcizzato totalmente la roba e quindi era ora sono totalmente a mio agio l'hai esorcizzato mettendosela nel cervello ora sono a mio agio con questa roba cioè non è proprio esorcizzarlo vabbè però l'hai fatta tua e adesso ha sviluppato il fetish del cacoldismo è tipo batman è tipo batman lui ha fatto solo ha fatto solo la sua paura ed è riuscito alla fine a renderla parte del suo personaggio è sbagliato però secondo me si è solo fottuto la mente si è distrutto si è distrutto perché adesso come fa qualcuno deve scopare la sua tipa a parte che comunque è un fetish facile da avere quello non è così difficile cioè ci sono fetish molto più sbatti bro pensa se ti piace non so avere ma aspetta ti posso interrompere? certo che puoi interrompere quanto è difficile secondo te tipo adesso voglio sono uno a cui piace il cacoldo no? si quanto è difficile trova qualcuno che scopi la mia ragazza? poco cazzata bro pochissimo cazzata ma guarda te ti dico bro scopi la mia tipa? allora con gli amici è diverso con gli amici è diverso zio sicuramente però chi vuoi che scopi la tua tipa se non uno uno che cioè vorresti veramente uno sconosciuto che la scopa? molto meglio come fare un trisome con un mio amico no con uno sconosciuto ma anche sì secondo me quanto è difficile secondo me è difficile zio vai letteralmente in discoteca vuoi scopare la mia tipa? però in discoteca? e lui dice sì certo cioè sono sicuro che devi trovare quello qui se inizia il cazzo con uno che lo fissa così col sigaro cioè minchia tipo così sì sì mettilo nel culo adesso bro secondo me in serata io non lo farei male secondo me è molto facile che tu trovi a Berlino e tu trovi a Berlino beh a Berlino è il palese sotto vai alla pollo tipo chiedi a dieci ragazzi uno che ti scopa la tipa uno che dice ripassa fra due ore se sono ancora in stasito lo faccio comunque lo strago a Berlino appunto non è il non è il tipo che viene a molestate se sei una tipa ma sono le coppie che vengono a molestate davvero? possiamo scopare con incredibile con te o con il tuo ragazzo facciamo scambismo cioè quel ci piace la tua vita però sono dei predatori cioè a me è successo sì sì di questa coppia che poi ho scoperto dopo che ero italiano perché parlavano benissimo inglese non me ne so accorto che vengono vicino e mi fanno attiva di scopare magari erano Fandro se erano italiani ti riscopavi alla fine o comunque grande la gente tra l'ulta boh invidio le coppie che ci sono anche ragazze comunque che hanno sta roba io non ho conosciuto qualcuna che gli piace guardare il suo ragazzo che scopa un'altra è assurdo è strano sì non so da dove possa venire anche là anche là secondo me le tifo si fanno gli sbatti ah sicuro cosa intendo? non so anche per me è strano cioè fottere col partner devi essere o vuoi sperimentare o devi farlo tutti i giorni tipo è una roba che fai di solito cioè non è che vai da un tipo che chiamiamolo normale si fa prendere male cioè la performance non la porta a casa sì devi trovare uno che è bravo a farsi guardare è bravo cioè ci sta dentro non deve essere un matto un matto io penso che se dai delle robe tipo ok deve essere super buio non ti devo vedere e magari la tipa è figa puoi riuscire a farlo se non ti focalizzi sul fatto che non esiste eh bro ma lui deve vedere come fa a essere buio chiaro che se sta là col figa eh sì zio comunque è quello che vuoi fare il piacere lì quando stai affottando non è che stai scopando la tipa e dici ok il tipo che mi guarda è solo un malus e lo ignoro no no tu devi entrare totalmente nella situazione devi dire godo che sto qua li sto scopando la tipa gli sto scopando la tipa e il fetiscio sta là capito è difficile averlo e soprattutto devi sapere che la cosa va a buon fine solo se tu scopi bene cioè se tu arrivi bro tre minuti è finito ma zio ma te ne vai non è che si prende male lei si prendono male sia lei che lui tutti eppure tu che hai fatto una figura di male cioè tutti si prendono male e magari lo sbatti non è solo di lei che lei capisce il maschio dice cazzo si è preso male lei si prende male no il tipo ti giudica cento per cento dici guarda sto coglione io lo scopo bene e poi qual è il pensiero zio del tipo è tipo io la scopo bene e vedo il tipo che la scopa peggio o io se la scopo male vedo il tipo che la scopa bene e godo secondo me è la seconda perché dici guarda come la sta distruggendo quella troia secondo me potrebbe essere allora godi di lei allora è gay il tipo zio no no sì sì il tipo è gay perché elabora perché gode in lei che viene scopata bene quindi si medesima in lei no sì 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 no secondo me lui lui piace la sua ragazza guarda che bella scopata sta ricevendo la mia tipa è perché la vorrebbe lui è gay bro minchia non so non so non so è gay bro secondo me è più tipo gli piace vedere la sua tipa che gode perché si medesima non perché l'ama così tanto da vederla felice però perché questa è una cazzata è quello che dice ai miei amici ma in realtà vuole vedersi scopato come lei però non è abbastanza gay da farlo se ci pensi un po' come guardare un porno ma c'è la tua tipa come attrice secondo me è meno gay che scoparsi una ragazza in che senso è l'espressione è l'espressione della massima eterosessualità invece se lo guardiamo da un certo punto di vista il cacolding perché guardi un porno etero e perché comunque bro io io ci penso nel senso se mi capite di scopare con una al suo passato e penso comunque tanta gente è stata dentro e mi prendo un po' male perché che è strano ti piace la figa usata? bro è musulmano è musulmano quella sei un vero sei un vero però questo hai detto te in un altro modo sì in un modo più tenero ascoltami questa è una cosa che devi fare brother come il tuo amico che si è sbattuto devi sbatterti pure tu ci fa? è che devi scoparti perché scopano con tutti che hanno scopato con tutti i tuoi amici no bro ma ci sono lo devi fare così superi sta cosa perché non puoi andare dalla tipa innamorarti ma lo faccio prima a scoparmi di un amico e la sera mentre ce l'hai dentro dire se altri cazzi sono stati qua cioè non puoi è una cosa che succede è impossibile che trovi la tipa che è vergine per te devi superarla sta cosa lo dico come amico no ci credo ci credo però me la vivo male perché dico cazzo sei tu che dovresti fare il cacold che cazzo ha successo fare il cacold bro ma ti dirò non è chi mi ispira però ma fare il cacold con la tipa che ami sì ma è appena detto che ti dà fastidio ti dà fastidio se è già stata scopata ma non ti dà fastidio che viene scopata mentre tu guardi fatemi ragionare perché cosa ha il tuo permesso in quel momento cioè cos'è che c'è in mente è maschilismo quindi bro è sì però mi piacerebbe un certo direi tipo girala adesso per scoparla ma solo se ha un velo che gli copre anche gli occhi minchia lei non la può sapere chi sei lei è del controllo direi girala fai questo fai quello 16 nicab bravo bro è quello che ti copre anche la situa let's go quello è crazy that's crazy che simone lo sa più che altro è crazy perché volevo comprarmelo per dripparlo solo che ho pensato poi alla fine si offende qualcuno sì forse sì però non di impazzurdo ma non sarò nemmeno che sei tu bro porco due cammino in strada con il nicab e un marocchino mi fa ma sai che in realtà a parte gli scherzi secondo me è super epico contro il catcalling bro io non catcallo però guardo se posso andare tipo col velo bro invisibile i tipi fanno invisibile bro ovvio però le stai togliendo tutto sì bro è mia sorella capi non ce la faccio però le stai togliendo tutto no però dice che lei non ha neanche una personalità bravo fa troppo ridere che ho visto su tiktok ogni tanto mi compare le robe musulmane a caso e c'era 30 secondi di un imam che pensava di aver cucinato e là che fa l'occidentale dicono che che noi che noi tipo no manchiamo di rispetto alle donne eccetera facendole coprire e poi fa ma se una caramella cade cioè se una caramella che cazzo fa se una caramella ti cade in un tappeto si sporca di peli eccetera se una caramella invece è coperta non potrà mai sporcarsi era questo ma non era vassurda che cazzo vuol dire che tipo lui era minca questa è questa ho vinto capii è tipo mettere la cover protettiva le tipe sì bro era quello il suo discorso era tipo era tipo pensate pensate così ha letteralmente oggettificato la donna cioè la bacina e i commenti erano comunque minchia zio ha cucinato e come in Zelda è uscito il rumore di errore quando cucina le cose sbagliate te c'è la poltiglia ha perso solo vita mangiando quella roba